Sì, proprio in questi giorni avevo avuto la risposta rispetto a un'interrogazione che ho presentato in Consiglio regionale, nella quale chiedevo garanzie rispetto al ripristino in tempi brevi di un pronto soccorso pediatrico. Ricordo che il reparto di pediatria, ostetrisi e ginecologia già da oltre un anno è stato chiuso praticamente e tutte le famiglie, le donne e i loro bambini li devono fare riferimento all'ospedale di Fano. Una garanzia c'è stata, cioè che quello che nel momento in cui terminerà questa pandemia verrà ripristinati i reparti, però ovviamente ci vorranno mesi se non anni il ripristino complessivo, quindi ho chiesto che venga attivato almeno in tempi rapidi un pronto soccorso pediatrico. Purtroppo la risposta è stata negativa, nel senso che il San Salvatore continuerà a non avere un pediatra a pronto soccorso che possa dare una risposta alle famiglie, quindi con i loro figli, nel caso di emergenza. Io penso che questa sia una cosa molto grave perché la città di Pesaro è un capologo di provincia, ha quasi 100.000 abitanti, ma a Pesaro fanno riferimento tanti altri comuni come Vallefoglia, come Gabice, Gradara, con un bacino che può superare e arrivare ai 150.000 abitanti e ritengo che questa scelta deve essere rivista perché penso che sia importante far sì che il San Salvatore abbia un pronto soccorso pediatrico per dare una risposta nel caso di emergenza alle famiglie, quindi ai bambini che potrebbero avere bisogno.